buonasera commissario buonasera signorina mi dica da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia non ci tocca nessuno a quel grandissimo fascista che avete fatto si credi sei buttata ma ok se so che di una maia vai neri vai chi comanda banca potere accuti massoneria chiesa ma io me faccio il cacchiglì ti vuoi confessare che a me non me lo fai chi non che dici il carabinico il culo del polizioso il killer del peperoncino tu lo sai chi è prenderò un giorno l'altro ricordati ti prenderò a me le questioni dei trans interessano fino a un certo punto hanno ucciso il commissario questa succede un casino a bari la polizia non ce la farà mai da sola a risolvere tutto dobbiamo andare per forza noi ad aiutarli altrimenti sono veramente nei guai dobbiamo mandare noi carabinieri ad aiutarli hai capito noi carabinieri che cazzo è questa anarchia la buonave del commissario se l'avevi fatto a pagare anarchico di merda bastardo tu fai sempre in prima linea che cazzo vai a fare che pensi che noi non ti abbiamo visto no no che vuoi che vuoi che vuoi anarchico di merda voi non cambierete mai la nostra politica io sono un uomo di stato è vero commissario è un mese che li stiamo dietro voi se volete fare qualcosa fate qualcosa di una cosa normale in una ludoteca faceva le bombe e carta le bombe anarchici di merda che vuoi la buonave del commissario se stava qua ti faceva un casino anarchico di merda hai fatto il casino si è andato sempre alla fine all'inizio del corteo lo sappiamo voi a bari che cosa state facendo però ve la faremo pagare lo metteremo in culo noi dello stato vi faremo male né servi né padroni ok o no che pensi vogliamo essere schiavi vogliamo ancora i padroni torniamo al medioevo mi avete rotto il cazzo con questo problema con questo anarchico di merda mi hai rotto mi hai rotto mi hai rotto commissario o mi dai delle degli spunti qualcosa di e questo che cos'è? questo è un giornale un giornale che vuoi comprare c'è scritto dove si fa lavoramento se vuoi il numero lo chiami ma mi stai prendendo in giro ma che devo prendere in giro? ma io sono commissario io non li vedo mai questi giornali in giro è illegale che cos'è questo? che cos'è questo? è illegale ma voi che cosa volete da noi? che vogliamo che vi distruggiamo alla fine? vuoi il numero? il nome? il cognome? non c'è problema ah mi prendi anche per il culo? ma mi prendo per il culo perchè gente come te come me? e gente come me è questa? gente come me è questa? consapevolezza ci vuole che fate dei cortei buttate bombe si 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 per arrivare a cosa? finchè siete finalmente consapevoli di quello che fate per chi lavori per chi lavorate non gestisco con le mani questo che cos'è? lei è un anartico di merda incredibile non è incredibile io sono il commissario vi farò arrestare tutti anateci non andate più a buttare le bombe ci sarò io come prima persona e se ti vedrò il primo sarai tu tu sarai il primo su prenderne lo prendo e sto lo posto andiamo aaaaaaah ciao 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 ciao